Tappa Bergamasca per il tour istituzionale voluto dall'assessore regionale alla casa e housing sociale Paolo Franco per fare il punto sullo stato di avanzamento delle opere e sulle prospettive future della missione Lombardia, il piano regionale delle politiche per la casa. Sentiamo l'assessore Franco intervistato da Simone Masper. Oggi è giornata di bilancio, quindi a che punto siamo con la missione Lombardia? Siamo alla settima tappa, una tappa a Bergamo, guai a non esserci. Quindi è un momento importante perché non solo si definisce a che punto sono questi lavori, questi 109 milioni di euro investiti sulla provincia di Bergamo che passano dalla cura del patrimonio, quindi efficientamento delle strutture, rigenerazione urbana, ma in modo sostanziale che per la prima volta dopo 50 anni vengono messi in campo in questo anno e mezzo, ne avremo ancora per un anno, per definire e rilanciare un'offerta abitativa anche a chi oggi l'opportunità della casa la deve avere perché viene a lavorare. Sono soddisfatto, non si tiene bassa la guardia, anche perché in questa verifica si va anche a verificare non solo i cantieri, ma anche i rapporti con l'Aler e con il grande lavoro che stanno facendo e hanno messo in campo. Ieri il tema principale era rimettere sul mercato altri appartamenti che erano sfitti, ma soprattutto stiamo parlando per esempio di cura del patrimonio per 53 milioni di euro su questi 109 con gli inquilini all'interno, quindi sono operazioni importanti. Oggi come oggi Aler deve riappropriarsi di quello che era il ruolo per cui era nata, cioè quella per cui la casa serviva a chi oggi viene con un lavoro, viene a lavorare e che ha bisogno di avere questa opportunità per far funzionare le nostre città. Sul tema dell'indigenza già facciamo la nostra parte con oltre il 50% degli inquilini all'interno delle nostre abitazioni, quindi oggi la necessità è di non rischiare di ghettizzarci e di arrivare in una situazione per cui le città non hanno le persone che le fanno funzionare. Interventi anche nelle valli seriane, nelle valli? In tutte le valli in funzione delle necessità, di quella che è la storicità della presenza, in particolar modo nelle valli ci sono investimenti particolari, nel caso della valli seriana, della valli di Scalve, sono oltre 14 milioni questa missione, ma potrei dire i denti della Val Brembana, i denti degli altri territori. È importante il fattore di rapporto con quelle che sono le amministrazioni comunali e la loro consapevolezza che gli alloggi che ci danno in gestione per chi ha scelto di darli hanno una priorità sul tema dell'ordinarietà. La straordinarietà, non essendo di nostra proprietà, diventa un tema da affrontare insieme anche ad altri livelli. Installare pannelli fotovoltaici, rendere molto più efficienti ed efficaci, concubitazioni e cambiamento degli infissi, ma soprattutto strutturalmente era la nostra missione. Passiamo da Gandino al Bino per Suclusone e per anche situazioni legate alla Val di Scalve. È evidente che c'è una capacità di analisi e di programmazione che parte anche da questi territori. Va bene avere le risorse ma avere anche le idee e la prospettiva del futuro. Anche per l'housing sociale, investimenti importanti con un bando importante che ha delle declinazioni anche sulle Valle Seriane e Val di Scalve ma che soprattutto deve tener conto oggi per gli imprenditori dell'opportunità di andare a riattare e realizzare alloggi per la propria gente con il contributo importante di Regione Lombardia. Housing sociale, parliamo della Montenungo, è un investimento importantissimo. È l'unico ente pubblico che ci mette i soldi di fatto e lo fa dentro una missione importante che ho fortemente voluto riattivare rispetto a un tema che per tanti motivi era un po' fermo. 15 milioni di euro per gli alloggi degli studenti quindi è situato in città ma è per tutta la nostra gente di tutto il nostro territorio e anche per chi verrà da fuori. La cosa importante è che questo investimento trovi una declinazione applicativa che è quella poi del canone del DSU, cioè quel canone calmirato e non finisca all'interno di altre situazioni per cui alla fine gli alloggi non vengono appreso o calmirato. 15 milioni di euro è anche un'operazione di riconoscenza storica per il ruolo che ha avuto per la città ma anche e soprattutto di impegno sociale a, come dicevo, riattivare un pezzo di città che non può stare in quelle condizioni e di tornare a essere utile e Regione Lombardia l'ha fatto. L'ultima cosa, l'attenzione anche sulle donne che hanno subito violenza. Sì, è un atto concreto, si avvicina al mese che ricorda questa brutta piaga questa brutta situazione sociale e come mia caratteristica è quella di Regione Lombardia aver messo a disposizione alloggi per tre anni dove non devono pagare l'affitto e dove possono trovare anche un percorso di formazione e di riavvicinamento al lavoro significa rispondere in modo concreto a delle situazioni dove la donna deve essere messa e portate in un posto tranquillo e riservi data la dignità dell'autonomia che merita. La Regione Lombardia ha organizzato diversi eventi in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Tra gli appuntamenti è anche un talk istituzionale che ha visto intervenire il Presidente della Regione, Attilio Fontana. La Regione sta lavorando da anni a questo tema, contribuendo a realizzare le reti antiviolenza, contribuendo a realizzare i centri a quali possono rivolgersi chi ha subito una violenza o chi sta subendo delle violenze e le case di accoglienza per le tante donne vittime di violenza. Ma bisogna andare avanti, bisogna guardare avanti, bisogna evidentemente rendersi conto che quello che è stato fatto fino ad oggi non è sufficiente. Non è sufficiente perché purtroppo le violenze stanno aumentando in maniera incredibile, nonostante l'impegno, quindi bisogna incidere in maniera più forte sull'aspetto, io credo, culturale, sul far capire ai bambini, fin dalla più tenera età, che l'uso della violenza non è accettabile in una società civile, che l'uso della violenza nei confronti di una donna lo è ancora di meno e che i problemi si devono affrontare e risolvere in altro modo, utilizzando altri sistemi. Oggi c'è questo incontro, questo convegno, nel quale tra le altre cose sono sottoscritti due protocolli d'intesa, uno con gli ordini degli psicologi, uno con la prefettura, tutti tentativi, tutti elementi, tutte iniziative che vanno nella direzione di ulteriormente implementare tutti gli strumenti di cui possiamo godere per contrastare questo fenomeno assolutamente inaccettabile. L'assessora regionale alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Elena Lucchini ricorda le iniziative promosse dalla Regione. Una giornata importante dedicata alla prevenzione e al contrasto alla violenza contro le donne, è stata un'occasione per organizzare e realizzare degli eventi importanti, da un lato con i giovani delle scuole e dall'altro anche con le istituzioni. Un momento di confronto, un momento anche per fare il punto delle iniziative, delle tante misure messe in campo anche da Regione Lombardia, sia sul fronte della prevenzione sia della presa in carico delle donne vittime di violenza. Tra le ultime iniziative della Regione il protocollo sottoscritto con l'Ordine degli Psicologi della Lombardia. Sentiamo Laura Parolin, presidente dell'Ordine degli Psicologi Lombardo. Il ruolo degli psicologi è da sempre quello vocato alla difesa dei diritti delle donne, ma anche dei bambini e delle bambine, di tutti i figli e le figlie che abitano in contesti violenti. In questo specifico protocollo abbiamo pensato insieme all'assessore Lucchini di partire dalla raccolta di alcuni dati che ci permettessero di avere delle idee più certe sul tipo di violenza psicologica in contesti allargati, in modo da muoverci in una ottica di prevenzione e promozione di un contrasto alla violenza di genere. A partire da questi dati ci saranno due processi. Da un lato la formazione ai professionisti, che diventeranno poi volano e amplificatore di tutte quelle buone pratiche di prevenzione e promozione e contestualmente anche una promozione e sensibilizzazione con le bambine, i bambini, i ragazzi e le ragazze nelle scuole e nei vari contesti, proprio per attivarci concretamente nella lotta contro la violenza alle donne. Sono sette i nuovi musei riconosciuti dalla regione Lombardia nel 2024, tra questi anche il Museo Civico d'Arte e del territorio Gianni Bellini di Sarnico. L'investitura è avvenuta a Palazzo Pirelli durante l'evento Riconoscilo, nel corso del quale l'assessora regionale alla cultura, Francesca Caruso, ha consegnato le targhe alle nuove realtà inserite nel circuito Lombardo. Oggi è la nuova edizione di Riconosciolo, ma sono anche vent'anni dalla prima delibera che è stata portata nel 2004 in giunta con 117 musei e istituti riconosciuti, oggi sono 208, compreso i sette che andremo a riconoscere proprio oggi. È una misura a cui teniamo particolarmente, Regione Lombardia è vicino agli istituti e ai musei, quest'anno, solo nel 2024, abbiamo sostenuto 65 progetti per quasi un milione di euro e anche ideato un nuovo progetto che si chiama 1-2-3 musei, insieme a Fondazione Cariplo, Abbonamento Musei e anche la rete degli oratori, delle diocesi, proprio per portare negli istituti e nei musei e avvicinare i ragazzi dai 6 ai 13 anni. Sono strumenti per valorizzare e far conoscere anche i nostri musei, devo dire che ci sono stati dei numeri importanti, questo vuol dire che la gente ha voglia di cultura e anche i ragazzi piccoli. Dai 6 ai 13 anni ci sono stati anche lì quasi 10.000 abbonamenti in pochi mesi. Il turismo rurale, esperienziale e diffuso ha conosciuto negli ultimi anni una rapida crescita sia in Lombardia sia a livello nazionale. Il settore risulta ancora particolarmente frammentato, proprio per aprire uno spazio di confronto tra istituzioni, professionisti, associazioni, destinazioni turistiche e operatori del comparto, Palazzo Lombardia ha ospitato la prima edizione degli Stati Generali del Turismo dei Territori. Al convegno ha partecipato anche l'assessora regionale al turismo, marketing territoriale e moda Barbara Mazzali. Dopo Covid ci ha restituito un turista che ha sempre meno desiderio di stare nelle grandi città, che le frequenta, ci arriva, ma poi desidera passare la sua vacanza nei nostri piccoli paesi, nei nostri borghi, comunque all'interno della nostra regione. A far da trae, non veramente ai numeri straordinari che la regione Lombardia sta facendo, sono proprio i territori. Cioè le città capoluogo sono sempre il punto di riferimento, ma poi sono i territori limitrofi e quindi sono i nostri piccoli borghi, sono le nostre piccole comunità che alzano la percentuale del turismo nelle nostre province. Quindi decisamente molto interessante, anche perché cominciamo a parlare già di un turismo che destagionalizza, ma soprattutto riusciamo a governarlo, perché siamo riusciti a raccontargli che i nostri interni sono meravigliosi, tanto quanto le nostre città capoluogo, ma che lì noi troviamo le comunità dove si crea veramente un'esperienza unica. Gli stati generali del turismo dei territori sono stati promossi da Regione Lombardia in collaborazione con Ferries, leader italiano nella ricettività extra alberghiera online. Sentiamo Fabrizio Begosi, Managing Director di Ferries. È molto interessante vedere come la fruizione degli alloggi rurali porta a una scoperta di tutto il territorio, delle opportunità che ci sono anche nelle città, come quelle dei piccoli borghi rurali o in quelle delle destinazioni più isolate. Direi che per sintetizzare quali sono le aspettative, le aspirazioni di questi turisti, autenticità e appunto scoperta dei valori del territorio, in cima a tutti probabilmente l'enogastronomia. Secondo i dati dell'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività, il turismo in Lombardia continua a crescere. I dati dei flussi turistici del periodo gennaio-agosto 2024 evidenziano un incremento dell'11% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In questo scenario ad aumentare sono anche i dati registrati dal turismo dei territori. Sentiamo Michele Camisasca, direttore generale dell'Istat. La regione Lombardia è uno dei pochissimi territori, in tutto il territorio nazionale, in cui i flussi turistici nelle aree rurali aumenta di due punti percentuali rispetto al 2013. Stiamo parlando di un turista attento a ciò che rappresenta il territorio. E quando si dice territorio si dice cultura, si dice musei. Sono moltissimi i musei che non si trovano nelle grandi città e che sono anch'essi fonte di attrazione dei turisti. Significa naturalmente enogastronomia, significa vicinanza con ciò che rappresenta appunto la cultura e la tradizione di un territorio. Questo, abbiamo visto dai nostri dati, muove effettivamente e cambia effettivamente i flussi. La SkinCard è la nuova iniziativa per poter sciare in Lombardia. Si tratta di una tessera digitale multifunzionale pensata per semplificare e agevolare l'accesso ai comprensori sciistici. L'iniziativa è stata promossa dalla regione in collaborazione con Anef, Schi, Lombardia e il Collegio regionale dei maestri di sci. Il contributo regionale è di 428 mila euro. La SkinCard è stata presentata dalla sottosegretaria alla presidenza con delega a sport e giovani della regione Federica Picchi. È un orgoglio per noi. La stagione invernale è una delle più importanti per noi che ci occupiamo di sport. Gli sport invernali che non hanno solo lo sci ma comprendono veramente tante attività sono anche un modo per conoscere meglio il nostro territorio della Lombardia e quindi siamo orgogliosi oggi di presentare insieme agli sport invernali anche dei nuovi prodotti. Oggi ci troviamo con tantissimi impiantisti, con tanti operatori del settore e vogliamo promuovere al meglio il nostro territorio. Oggi vogliamo lanciare questa nuova tessera, un nuovo software Skin che è pensata proprio per un pubblico giovane, un pubblico che ha voglia di sport, ha voglia di montagna e magari ha bisogno di qualche aiuto dal punto di vista della promozione quindi un aiuto economico. La Skin avvolta più impianti in Lombardia, sono più di 300 impianti, 900 km di pista quindi è una bella copertura e permette ai ragazzi di sciare per per use quindi anche ottimizzare la card per utilizzo e non è pensata solo per i ragazzini che ovviamente hanno un bello sconto ma anche per i loro genitori. Quindi cerchiamo di venire incontro al nostro territorio il più possibile cerchiamo di promuovere il più possibile l'amore per la montagna, l'amore per lo sci per uno sci anche sano, uno sci in famiglia, uno sci che dia la possibilità di passare delle giornate fuori all'aria aperta e anche godersi il nostro territorio. La nuova tessera Skin Lombardia permette di sciare in modalità pay per use attivando online l'abbonamento stagionale senza fare code e pagando solo per il tempo effettivo sugli sci fino al raggiungimento del costo dello stagionale un ulteriore impulso alla pratica dello sci ha detto il sottosegretario con delega all'autonomia e rapporti con il consiglio regionale Mauro Piazza. È uno strumento che permette di utilizzare tutti i 27 comprensori della Lombardia ma incontro all'esigenza dei professionisti, di chi ha tantissimo andare a sciare ma anche degli atleti, dei ragazzi sportivi che vogliono potersi cimentare con uno strumento tecnologicamente avanzato che dare anche qualche vantaggio economico affinché la montagna riuscisse a rufruire i bandighi.